si spegne la tastiera perché la batteria si è scaricata ragazzi ragazzi no devo cercare il suono un attimo benvenuti il venerdì mi rende felice mi fa sentire libero di cantare di esprimere una dolce melodia o mamma mia che sensazione di leggerezza e di purezza si così il venerdì ragazzi è sofficissima questa sigla è così soffice fatemi spegnere la tastiera per conservare quel minimo di batteria che mi resta era molto soft questa sigla molto soft very 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 soft did you like it mi è piaciuta oddio a me è piaciuta tanto allora benvenuti al nuovo video verdi non perdiamo tempo votate subito la sigla mi aspetto cose belle i voti consentiti sono 1 3 5 7 9 10 10 lode 10 lode menzione speciale 10 lode menzione speciale bacio accademico 10 lode menzione speciale bacio accademico premiazione su saturno ok votate adesso nei commenti e passiamo al tema di oggi oggi parleremo di studiare più a scuola e meno a casa la domanda è è possibile e la risposta è sì però dobbiamo dire subito subito ma ci sono delle regole da seguire che io seguivo quando ero a scuola e l'ho detto tante volte questo lo facevo per una questione di di convenienza di di una questione pratica perché io studiavo sia al liceo che al conservatorio quindi avevo oggettivamente meno tempo di studiare a casa per entrambe le scuole quindi sono stato costretto a mettere in atto delle strategie e ora ne parleremo però prima di fare questo naturalmente voglio dire a tutti quanti benvenuti un grande bacio e prima di affrontare l'argomento ecco ho lì scritto sul sul computer se non mi scordo sempre ogni volta vi allego qui intanto una cosa molto speciale il mio libro la fisica che ci piace che potete acquistare ora fatelo se non l'avete fatto meraviglioso perché sarà un altro modo di leggere la fisica attraverso me molto molto diverso da quello che io faccio in video ma molto 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 cool che non significa questo naturalmente lo potete lo potete acquistare da qui ding vi lascio il link invece ora vi lascio due video diciamo utili per l'argomento che stiamo trattando oggi c'è lo studio il primo video è il metodo di studio in particolare vorrei parlare di active recall ho dedicato al metodo di studio active recall che secondo me è un metodo di studio molto particolare innovativo a mio parere ho sperimentato tra l'altro il metodo facendo un'applicazione pratica in un video un po di tempo fa un po di venerdì fa ping clicca qua e secondo il secondo video che ci tengo a condividere con tutti voi è come prendere dei buoni appunti perché voi mi scrivete in tanti cioè mi dite prof come posso migliorare la mia capacità di prendere appunti e mi scrivono quelli di scuole superiore e quelli di università tra le altre cose il video di oggi è utilissimo per tutti anche per gli universitari quindi come prendere appunti ting cliccate qua basta chiuso ecco ho appena detto una cosa cioè a chi è adatto il video di oggi perché molti pensano vabbè studiare di più a scuola intendiamo soltanto liceo intendiamo soltanto scuola superiore no intendiamo anche all'università c'è studiare di più durante le lezioni per studiare meno a casa ragazzi è possibile io sono la prova vivente io sono la prova vivente io rappresento esattamente quello studente che soprattutto alle superiori ha applicato questo questi queste regole che adesso vedremo naturalmente sulla lavagnata la prima non mi riguarda per io applicavo molto le prime le ultime due adesso vedrete la prima ahimè non mi riguarda perché lo scoprirete fra un attimo perché all'università ho fatto un po più di fatica nel senso che comprendevo che lo studio a casa era fondamentale tante ore di studio a casa erano fondamentali per poter poi preparare le sonero l'esame scritto l'esame orale non lo so però a scuola invece me la sono veramente cavata dicono gli inglesi ecco me la sono cavata I got away with it I got away with it to get away with something vuol dire cavarsela insomma farla franca ecco farla franca l'ho fatta veramente franca nel senso che io mi sono diplomato col massimo dei voti e se dovessi quantificare le mie ore di studio a casa qualcuno si stupirebbe ma veramente studiavi così poco sì perché applicavo tre regole attenzione applicavo più di tre regole non non solo tre però oggi ho voluto racchiudere quelle che secondo me sono fondamentali per voi studenti di oggi per voi studenti del 2023 del 2024 2025 che ne so allora guardiamole attenzione anzi no devo parlare di me un attimo prima di guarda anzi no scusatemi le guardiamo le leggiamo perché parlo di me contemporaneamente tanto non ha molto senso staccare all'attenzione quali sono le tre regole da seguire le leggiamo senza commentare poi le commentiamo una alla volta numero uno spegnere il cellulare però questo ha un significato particolare ora ve lo dico numero due capire 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 capi come dice sgarbi capra 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 invece non è capire 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 per favore regola numero tre sfruttare i tempi morti allora attenzione andiamo alla regola numero uno studiare più a scuola per studiare meno a casa sì se tu hai il cellulare acceso che significa cellulare acceso significa notifiche accese significa anche il tuo tablet con le notifiche attive cioè questo è un problema perché noi non abbiamo a scuola solamente lo strumento cellulare che obiettivamente non ci serve a nulla i miei studenti dicono prof io prendo il cellulare ho bisogno di prendere il cellulare per esempio quando devo usare la calcolatrice sbagliato comprati la calcolatrice comprati la calcolatrice staccati dal cellulare perché è una cosa psicologica il cellulare a scuola va spento va completamente spento dice ma noi facciamo la didattica digitale sì va bene voi fate la didattica digitale che cosa col tablet se il tablet se il cellulare è spento il tablet è disconnesso dal cellulare se al tablet è magari legato che ne so un whatsapp desktop non so questo tipo di funzioni che ti arriva la notifica sul telefono ti arriva anche sul tablet ti arriva anche sul orologio digitale se il cellulare è spento è spento basta è finito almeno non ti arriva una notifica perché quella cosa ragazzi è distruttiva e io non lo dico non lo racconto questo sulla mia pelle anzi devo dire verità meno male che ai tempi miei il cellulare non c'era perché è una rottura di balle avere sto cellulare a scuola vi distrae non funziona così cioè è un continuo lo studio seguire la lezione necessità di una cosa innanzitutto della concentrazione e il cellulare ti priva della concentrazione cioè ti priva tutti i privi della possibilità di essere concentrato su chi parla dice ma chi parla già non lo capisco allora non capisci chi parla perché quel professore non è chiaro ci metti di mezzo anche il cellulare ti arrivano le notifiche e la fine it's over it's completely over allora per piacere spegnete i cellulari liberatevi da sto schiavitù liberiamoci liberiamoci c'è una cosa che riguarda anche noi docenti riguarda anche me io quando metto da parte il mio cellulare modalità aereo e non lo tocco per le mie ore di direzione io sto benissimo se invece c'è questa schiavitù mentale a me mi deve arrivare quella mail mi deve arrivare quel messaggio tu non solo ti distrai quando ti deve arrivare quel messaggio ma sei distratto al solo pensiero che quel messaggio ti deve arrivare oh oh non funziona così perché ti devi concentrare capire 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 allora a scuola dovete pretendere di capire le lezioni se il professore non spiega in maniera chiara glielo dovete dire glielo dovete dire e dovete dire il progresso non ho capito non ho capito cioè non ho capito cioè voi dovete uscire dalle lezioni finire le vostre lezioni in classe dovete aver capito tutto quello che dicono i professori se non avete capito ragazzi ditelo ditelo cioè tirate sulla ma alzate la mano fatelo tutti mettetevi d'accordo anche con i rappresentanti classe dovete pretendere chiarezza e se invece quel non ho capito dipende da voi concentratevi concentratevi maggiormente se il professore vi deve rispiegare un concetto fatelo rispiegare perché quando andavo io a scuola e capivo mi sforzavo di capire le lezioni era meglio perché arrivavo a casa e avevo la mente chiara avevo la mente chiara se dovevo fare un esercizio io avevo capito come si trovano le radici in equazioni secondo grado le varie tecniche il delta il delta ridotto non lo so io l'avevo capito l'avevo capito in classe se ti manca quel pezzo della comprensione non funziona non funziona perché arrivi a casa non hai capito sei frustrato devi cercare informazioni online perdi tempo magari non le capisci neanche online ti arrabbi ti sputi in faccia cioè è tutto un casino cioè è tutta una conseguenza brutta invece capire in classe cioè alzare la mano e dire prof io non ho capito questo passaggio per piacere lo può dire lo può spiegare in un'altra maniera è sintomo di maturità nessun professore se la prenderà e se se la prendono quelle persone devono devono cambiare mestiere non sono insegnanti devono fare altro però voi siete studenti che il mestiere uno dei mestieri più difficili del mondo essere studenti perché vi dovete saper regolare questa regola vale anche per gli universitari cioè è importante anche all'università non far passato io mi ricordo questi professori che scrivevano lavagne su lavagne su lavagne su lavagne e se capiva niente a volte si alza la mano si dice non ho capito io mi ricordo che eravamo in pochi pochissime a fare questo chi se ne frega siamo diventati antipatici agli occhi dell'insegnante no no perché lui aveva la percezione che ecco cioè è bello in realtà è bello quando uno studente ti dice non ho capito perché tu capisci che la devi spiegare un'altra maniera questo è il nostro dovere attenzione è il nostro dovere quello degli insegnanti di essere chiari di rispiegare o è il nostro mestiere non c'è niente non è neanche una questione di soldi non è siamo pagati per questo no è proprio una vocazione essere chiari trasmettere il sapere che spesso passa attraverso la conversazione con gli studenti infatti io io non lo so gli altri docenti magari molti fanno come me io finisco i concetti quando spiego guardo i ragazzi e dico avete capito avete capito anche se mi dicono di sì con la testa io guardo gli occhi e individuo qualcuno che ha gli occhi strani e dico tu non hai capito e dice eh sì e dimmelo dimmelo perché io io magari chiedo 54 mila volte avete capito altri insegnanti non lo chiedono e non è una colpa dell'insegnante non chiederlo non è che l'insegnante è tenuto a dire avete capito 54 mila volte no siete voi che dovete alzare la mano quindi attenzione voi siete parte attiva capire la lezione è mettere metà del lavoro fatto lo ripeto comprendere le nozioni di una lezione è metà del lavoro fatto attenzione attenzione è molto importante numero tre questo è importantissimo ragazzi questa è fondamentale sfruttare i tempi morti a scuola e anche all'università ci sono tempi morti che cosa sono i tempi morti 1 le supplenze durante le supplenze non si fa niente c'è qualche supplente che arriva in classe si mette a parlare con i ragazzi bellissima questa veramente bella e l'ammiro molto come quella quella volta ogni morte di papa che mi è capitato di fare supplenze a me piace parlare con i ragazzi conoscere gli studenti non sono miei però non si può essere sempre così cioè il supplente è una persona che va a supplire quella lezione ora io non voglio entrare nella dinamica di cosa dovrebbe fare un supplente non è questa la video del venerdì di oggi non è questo il punto il punto è un altro non troviamo scuse hai tempo quell'ora ti rendi conto che è arrivato il supplente e non si sta facendo nulla non metterò a fare gli aeroplani mettiti a studiare mettiti a studiare mettiti a fare gli esercizi io quanti esercizi mi sono fatto di matematica di fisica di chimica durante le ore di supplenza cioè e mi portavo avanti e diventavo più bello dice ma tu come fai a concentrarti magari c'è confusione in classe lo devi fare tu ti devi concentrare nei momenti in cui è più difficile concentrarsi con i rumori intorno con la gente che ti parla addosso con un bus che passa vicino e che strombazza sì tu devi imparare a concentrarti in quei momenti io ho imparato l'inglese così io ho imparato a parlare la lingua così col casino intorno o ma io per parlare inglese devo avere silenzio e come fai scusa nella vita di tutti i giorni tu quando incontri una persona c'è l'auto che passa il bambino che grida la persona che parla veloce non si capisce niente cioè già è difficile a volte capire persone in italiano figurati in un'altra lingua ma quello la concentrazione si migliora nei momenti più difficili quindi il momento della supplenza quando c'è magari non lo so non c'è nessun casino in classe gli altri stanno facendo i fatti loro mettiti a studiare mettiti a fare esercizi recupera comincia già a leggere hai capito la lezione di storia perché hai seguito il punto 2 e allora comincia già sottolineata toglitela davanti fa altro tempo morto altro tempo morto le attese dei mezzi di trasporto io mi ricordo che mi sedevo l'ho detto in un altro video mi sedevo al muretto a secco per aspettare l'autobus che arrivava per poter che pare che arrivava per portarmi a casa cioè ragazzi era un'ora un'ora e mezza a volte mezz'ora a volte dipende magari l'autobus in realtà sono tempi morti non possiamo stare così con il cellulare in mano c'è stai perdendo tempo dici madonna santa e non devo usarlo mai il cellulare no non ho detto questo io ti sto dando i consigli io ti sto dicendo quelli sono tempi morti sfruttali cioè sfruttali a tuo vantaggio dice vabbè ma a me mi piace aspettare l'autobus e fischiettare e guardare il cielo parlare con gli amici ok io lo sto dicendo che è brutto parlare con gli amici guardare il cielo va benissimo il punto è che quello è un tempo che potresti sfruttare per studiare e magari non lo fai e purtroppo poi dovrai studiare a casa ecco perché questo più studio a scuola barra università meno studio a casa significa questo per esempio c'è gente che sfrutta io non ci riuscivo io non ci riuscivo io prendevo l'autobus sto capello qua che se ne va giù madonna che nervi io prendevo l'autobus non riuscivo a studiare in autobus mi sentivo male cioè mi mi dava proprio fastidio mi veniva la nausea c'è gente che studia benissimo nei mezzi trasporto io vedo studenti in treno in autobus fanno i libri aperti smetto cuffie sulle orecchie cuffie ti metti a sentire la musica e studi c'è gente che studia perché c'è gente che i pendolari no c'è gente che viaggia per un'ora non lo so 45 minuti un'ora e mezza quello che so 45 minuti ragazzi è mezz'ora è mezzo so tre esercizi di matematica cioè hai capito lo devi sfruttare il tempo morto perché quella è una cosa a tuo favore più tempi morti sfrutti meno lavori a casa meno studi a casa quindi le tre regole combinate ripetiamole spegnere a favore il cellulare spegnetelo toglietelo di mezzo durante le ore scolastiche e universitarie due comprendere la lezione fino all'ultima virgola è vostro diritto capire ed è vostro dovere alzare la mano e dire non ho capito tre sfruttare i tempi morti perché durante una giornata scolastica ci sono sempre tempi morti o quasi sempre perlomeno quello dei mezzi di trasporto quasi sempre sempre non lo so si esce prima da scuola è bello uscire prima da scuola è uscire prima da scuola e hai due ore di autobus e ti mette a fare una vasseggiata e ti mette a giocare al cellulare è bellissimo piace ora a me sfruttale quelle due ore cioè perché è sempre un discorso quello che fai prima non farai dopo questo è un po il riassunto insomma quello che abbiamo detto allora che ne dite che idea vi siete fatti scrivetelo nei commenti è importante aggiungereste una quarta regola una quinta altre due una di queste tre vi sembra particolarmente efficace una di queste tre vi ha stupito scrivetelo nei commenti qual è la vostra esperienza con lo studio anche durante le ore scolastiche cioè che tipo di esperienza avete fatto da questo punto di vista scrivetelo nei commenti lo sapete è importante questi video sono dei blog sono dei piccoli blog raccogliamo informazioni e io stesso leggendo questi commenti mi meraviglio sono sono meravigliato perché io stesso imparo alcune cose nuove riflettico il famoso aha moment che dicono gli inglesi bene mio love ci vediamo venerdì prossimo vi lascio con due video uno dedicato alla che parla della solitudine e il secondo che parla del body shaming che è una delle cose più antipatiche che purtroppo tormenta alcune persone specie alcuni studenti love assai assai assaiissimo